Benvenuti a questo primo ciclo di incontri con il diritto del Dipartimento di giurisprudenza. Con questa serie di incontri che inauguriamo oggi, noi intendiamo offrire agli studenti, agli operatori del diritto, ma anche a tutti coloro che hanno interesse per questo mondo, una serie di riflessioni su temi di grande e particolare attualità. In particolare avremo come primo relatore di questo ciclo il professor Elio Tavilla, che è il nostro direttore di Dipartimento ed è anche ordinario di Storia del diritto medievale moderno, il quale ci parlerà di pandemie ed epidemie nella storia del diritto. E' un tema quindi che è ben collegato anche ai mesi che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto di lockdown, di pandemia e che viene riguardato nella particolare ottica dello storico, con la sensibilità dello storico. Seguirà un incontro con la professoressa Marina Evangelisti, associato di diritto romano e diritti dell'antichità, la quale ci parlerà di cittadinanza ed emigrazione dal punto di vista del diritto romano, quindi dei secoli passati, che cosa succedeva e come ci si comportava di fronte a questi temi che sono moderni ma anche antichi. Seguiranno il professor Alberto Tampieri, nostro vice direttore di Dipartimento e ordinario di diritto del lavoro, il quale tratterà del lavoro agile. Si parla di solito di smart working, ma è preferibile utilizzare la dizione che è data dal nostro legislatore italiano, quindi il lavoro agile, anche con riguardo al caso dell'emergenza Covid. Infine chiuderà questo primo ciclo il professor Carlo Bellani, associato di diritto processuale civile, il quale tratterà un tema di particolare interesse e attualità, quale quello della esecuzione forzata immobiliare, quindi anche degli sfratti immobiliari, e proprio sempre dal punto di vista dell'esperto in materia processuale. Volendo fare una sintesi, possiamo dire allora che si tratta di temi ampi, ma di temi che danno anche il senso, come è il nostro intento in questo ciclo di incontri, della vastità, dell'ampiezza del diritto, che non è monolitico, ma che ha tante sfaccettature e tante applicazioni. E con questo noi vogliamo quindi presentarci in una modalità anche un po' nuova per noi. Noi siamo abituati a stare nelle aule del nostro bel dipartimento, ma vogliamo appunto offrire questo piccolo servizio anche all'esterno per poter avere un'idea di un diritto vivente, di un diritto dei leggi, di giustizia, dei temi, cioè che sono i nostri temi, ma sono anche i temi di una società civile. Noi sappiamo che non c'è una società se non ci sono delle regole scritte e non scritte. E il nostro compito di giuristi è proprio quello di accompagnare, di spiegare, di interpretare questo mondo fatto di regole, a volte con molti tecnicismi, ma è proprio nostro compito riuscire a chiarire anche quello che sembra complesso. La cadenza di questi incontri sarà settimanale, partiremo ogni lunedì con queste riflessioni che faremo assieme. Cominciamo a luglio e ci ritroveremo a settembre. Auguro a tutti buona visione e buon ascolto. Auguro a tutti buona visione e buona visione.